Volevo solo dire che tutto quello che scrivo non è del tutto vero, è solo un mio pensiero, se offeso il vostro ego fa lo stesso. Non sono un musicista, né cantautore, tanto meno poeta, scrivo ogni tanto per dire ciò che penso, credo nella musica e nel libero pensiero. E voi pronti a giudicare su cosa dice un testo, non sa cantare, è solamente un fesso, ciò che dite è tutto vero, ma il mio credo è libertà, fa il muro tutto il resto. Ma voi poeti di paese, musicisti del momento, venditori di libri, professori in pensione, fatevene una ragione, perché io canto e scrivo tutti i miei lamenti e le mie rotture di coglioni. E non sarà una vostra critica, cari professori, musicisti provinciali, ubriachi intellettuali, poeti da quattro soldi. Io me ne sbatto e vado avanti, anche se comprendo bene che questo vi stia sui coglioni. Sarà la quarantena che c'ha nebbia la mente o una schifosa osteria ubriaca di gente. Sarà chi ha quest'ora rabbia e sentimenti dentro a un bicchiere vecchi lamenti. Sarà che il mio amico Marco ha perfettamente ragione quando dici meglio una donna e un po' di vino che ascoltare i discorsi di un coglione.